Abbiamo avuto la beatificazione di due papi e grande successo della Chiesa cattolica, internazionale, grande. C'è stata un'altra cosa che è successa pochissimo tempo prima, di cui invece si è parlato veramente molto poco. Ve la ricordo perché tutti quanti l'avete vista ma nessuno poi ci ha riflettuto su tanto. Un gruppo di ragazzi cattolici è andato, si è allampicato sulla cima di un monte per una cerimonia o per un raduno o per qualcosa a carattere religioso in onore di Papa Voitiva sotto una croce enorme che era stata eretta tempo fa proprio in onore di questo Papa. La croce, come loro sono arrivati lì, è cascata in maniera del tutto inopinata, non ce ne aspettavo una cosa del genere, ha ferito uno di questi ragazzi ed ha ucciso il migliore di loro, quello che li aveva condotti, fra l'altro un portatore di un piccolo handicap che non è riuscito a scappare. Di questa storia si è parlato molto poco invece. Immaginatevi se fosse successa una cosa, con altrettanto tempismo, cioè un attimo prima della santificazione dei due papi, quindi altrettanto tempismo, altrettanto clamorosa, altrettanto inaspettata, solamente con un finale positivo, non negativo, cioè mettiamo che lì ci fosse presente, se fosse stato colpito un ragazzo che in seguito a uno shock non aveva più parlato e che improvvisamente dopo questa cosa si rimette a parlare. Lo sapete tutti, sarebbe stato un miracolo, si sarebbe detto questo è un miracolo. Invece della stesso, un evento simile o direi identico ma di segno contrario è stato tenuto sotto silenzio. Ecco, a me sembra, io non sono credente, ma ho un grande rispetto per quelle religioni che non perseguitano le altre religioni, tutte quante, e quindi la religione cattolica mi sta benissimo. Però mi sembra che in questo caso l'ente supremo, chiamiamolo come volete, ci abbia detto, non mi umanizzate, non consideratemi una specie di direttore generale che se uno va a chiedere la raccomandazione poi la dà e gli fa il miracolo, io sono semplicemente un essere superiore che ha creato tutte le cose, non mi fate la coda davanti all'ufficio per chiedermi delle cose speciali, non consideratemi un vecchio con la barba e col triangolo in capo, uno o trino che sia, lasciatemi fare il mio lavoro e non venite a impicciarvi di quello che non capite, perché tutto questo è al di sopra della vostra comprensione, lasciatemi stare. Grazie. Grazie.